L'accerchiamento di Regione Lazio e Governo sul tema della scuola a Roma in termini di personale e di orientamento didattico. Qual è la sua posizione in merito? Sono successe alcune cose gravi che riguardano non soltanto la città di Roma ma tutto il territorio nazionale. Primo tema il dimensionamento scolastico a livello nazionale e questo governo ha deciso di risparmiare sulla scuola producendo un esteso piano di accorpamenti tra le scuole. Succede in tutta Italia da nord a sud ma colpisce particolarmente il sud e colpisce la nostra regione il Lazio e colpisce Roma. Nella nostra regione tutto questo è avvenuto nel modo peggiore possibile dato che il processo partecipativo che ogni anno porta a redigere la proposta della rete dell'offerta scolastica territoriale non è stato di fatto condiviso con gli enti locali. La regione il 4 di gennaio ha approvato una delibera che smentisce quanto unanimemente ha approvato il 19 dicembre, quindi qualche giorno prima, nella conferenza regionale permanente sull'istruzione che è un organismo istituzionale e quindi la regione ha scelto per conto su una serie di accorpamenti che riteniamo sbagliati nel metodo proprio perché sono stati saltati livelli istituzionali di prossimità e nel merito perché fa delle scelte sbagliate accorpando scuole a molti chilometri di distanza. È il caso del nono municipio dove sono state messe insieme scuole che distano più di 11 chilometri, quasi un'ora di distanza l'una dall'altra oppure come la soppressione della scuola del Quarticciolo che verrà accorpata un'altra, un territorio di grande fragilità pieno di contraddizioni che più di altri avrebbe bisogno della massima cura, attenzione e valorizzazione del suo presidio scolastico invece viene in qualche modo dimenticato. A tutto questo noi intendiamo opporci, tant'è che stiamo valutando ogni utile iniziativa, in particolare la possibilità di ricorrere al TAR contro questa scelta che riteniamo completamente sbagliata e non accettabile. D'altro canto, come ricordavi, c'è anche un tema importante che riguarda il personale, è di questi giorni il tema della mancata proroga delle graduatorie del personale educativo e scolastico da parte del governo. Di nuovo questa scelta impatta duramente sui comuni e sulla città di Roma, dove la graduatoria riguarda oltre a 5.000 persone educatrici e maestre, noi chiediamo e non molliamo, continuiamo a chiedere la proroga di queste graduatorie in modo tale da poter dare stabilità e sicurezza alle nostre scuole e ai nostri nidi. Le ultime iniziative invece del governo di centrodestra in merito a voti per gli alunni nelle scuole e di vieti rivolti ai dispositivi elettronici, su questo qual è il suo punto di vista? Io penso che si stia disegnando un'idea autoritaria e retriva di scuola da parte di questo governo, non mi convince per nulla, credo che non parli alla società di oggi e assolutamente non consenta lo sviluppo di metodologie di innovazione didattica e pedagogica e non consenta di rendere la scuola ciò che dovrebbe essere un luogo abitabile da tutte e da tutti, che consente alle ragazze e ragazzi di crescere, di formarsi, acquisire certo conoscenze, competenze e abilità, ma anche socializzarsi al mondo. Il ritorno all'idea del voto numerico penso che sia un'idea sbagliata, perché assume l'idea di classificare i ragazzi e le ragazze e introduce un approccio e un'idea competitiva fra studenti che non credo faccia bene ai tempi e ai modi dell'apprendimento, così come non mi convince l'idea del divieto dell'utilizzo dei dispositivi elettronici a scuola, dato che la scuola invece potrebbe e dovrebbe essere lo spazio in cui si impara ad utilizzare consapevolmente e ad utilizzare le risorse che la tecnologia ci mette a disposizione. Concludiamo invece con un suo giudizio rispetto ad una ipotetica alleanza tra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle, fare un fronte comune contro quelle che sono le idee relative all'istruzione pubblica del governo Meloni. È qualcosa di possibile e eventualmente anche di necessario? Io penso innanzitutto che sia desiderabile, perché le forze progressiste che hanno una certa idea di società in questo momento in particolare devono mettersi insieme per contrapporsi invece a una visione del mondo, della società e anche della scuola, ne abbiamo parlato finora, che questa destra ci propone. Già abbiamo avuto degli esempi virtuosi, io credo per esempio con la proposta di legge sul salario minimo che le opposizioni parlamentari hanno congiuntamente presentato qualche mese fa e che non a caso su un tema importante, centrale come la dignità del lavoro, fa un significativo passo avanti, affermando la dignità e i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori. Credo che altrettanto potremmo fare sulla scuola, sull'idea di una scuola democratica, progressiva, che contrasta le disuguaglianze che incarna la Costituzione, così come su tanti altri temi. Quindi assolutamente vedo auspicabile e necessaria una sinergia sempre più stretta tra le forze di opposizione sulla base di contenuti progressivi per contrastare un'impostazione autoritaria della destra.